Buongiorno, oggi qui alla sede di Liessone presentiamo un nuovo apparecchio di illuminazione, si chiama Linea. Il Linea nasce come frutto di un enorme investimento da parte dell'azienda che per sua tradizione punta alla realizzazione di apparecchi di illuminazione ad altissimo contenuto tecnologico realizzati completamente in Italia. Per la realizzazione di questo prodotto la sede si avvalsa di risorse selezionate esclusivamente nel territorio italiano, realizzando tutte le attrezzature nella nostra regione ed allestendo le linee di montaggio e collaudo di questo prodotto all'interno del nostro stabilimento. La scelta, a volte considerata controcorrente di produrre esclusivamente in Italia, è da noi considerata il vero valore aggiunto che diamo ai nostri prodotti, in quanto ci consente di dare ai nostri clienti un servizio che una delocalizzazione non potrebbe garantire. Avendo presenti all'interno del nostro stabilimento tutte le fasi di progettazione, test e produzione dei nostri apparecchi, siamo in grado, oltre a creare ricchezza nel territorio, di soddisfare le esigenze dei clienti con tempi rapidi di fornitura e qualità al massimo livello. Il servizio di prevendita, post vendita e personalizzazione è gestito con cura maniacale da tutti i dipendenti della sede. Anche per in linea la sfida che riteniamo di aver vinto è stata quella di realizzare un apparecchio di illuminazione che potesse rispondere alle esigenze che il mercato manifestava applicando le conoscenze che il know-how aziendale garantiva. In linea, come già il nome indica, è un apparecchio lineare LED ad altissimo contenuto tecnologico, dal prezzo competitivo adatto ad essere utilizzato per un'illuminazione tecnica di altissima qualità, dal retail, nell'industria, in uffici o scuole. Può essere utilizzato per realizzare file continue nell'illuminazione di supermercati o magazzini o come prodotto stand-alone per l'illuminazione di uffici, scuole, abitazioni. Il suo design pulito ed elegante consentirà ai nostri clienti di utilizzarlo in tutte quelle situazioni in cui è necessario avere quantità e qualità elevata della luce. Il comfort è garantito da un'emissione con fasci controllati ed un UGR che rispetta le più severe normative. Per esigenze specifiche siamo anche in grado di fornire personalizzazioni come ad esempio LED con spettro luminoso ottimizzato per l'enfatizzazione dei prodotti, food o sistemi di controllo, gestione della luce. In linea è proposto in due lunghezze, 1,40 m con flussi di 6.000 e 9.000 lumen o 2,80 m con flussi da 12.500 e 17.500 lumen. I fasci disponibili da noi scelti sono 4 e sono stati selezionati per rispondere a tutte le principali esigenze di illuminazione che questa tipologia di prodotto potrebbe incontrare. L'utilizzo di LED e ottiche di ultima generazione ci ha permesso di ottenere efficienze superiori ai 160 lumen watt. L'apparecchio è realizzato in lamiera d'acciaio prezincata verniciata ed è cablato internamente con sette conduttori così da consentire il bilanciamento delle linee in installazioni di grosse dimensioni. Tutte le connessioni sono realizzate per consentire l'installazione e il cablaggio di linea senza l'utilizzo di tools particolari. Questo si traduce per il cliente in installazioni semplici, veloci e a basso costo. Linea è disponibile con una gamma completa di accessori per consentire installazioni di ogni tipo. Altra caratteristica distintiva di linea è quello di poter essere richiesto con modulo per illuminazione di emergenza integrato nel corpo dell'apparecchio. altra caratteristica